Questa è la veduta dal nostro balcone al diciottesimo piano al Marina Bay, a Penai, tangiunto con. Qui sotto si vede la piscina, adesso arriviamo alla piscina. Dovete sapere una cosa, che in Asia, anzi gli asiatici, odiano il sole. Sono salita adesso, questa piscina ce l'ho tutta per me. Perché nessuno vuole stare al sole. La sera si riempie però. La sera si riempie, ma a me piace il sole, noi europei ci piace il sole, quindi sto da Dio. Ciao regà. Grazie. Applausi. Mi saluti a casa, da? Ciao. Dai. Come solito la piscina è tutta per me, qui a quest'ora non c'è mai nessuno. Oh. Speriamo che ci chiamano a quel paese, siamo bene qua. Ciao. Ciao. Alla prossima. Alla prossima.